Ciao amici, oggi ho qui una cover presa direttamente su Aliexpress per il tablet Redmi Pad SE. Questa è la cover per il Redmi Pad SE. Da 11 pollici, è di un silicone molto morbido, piacevole al tatto, che protegge il display e l'interno è molto delicato per non danneggiare il retro del tablet. Come vedete è perfetta, calza veramente a pennello. Molto accessibile il tasto d'accensione, gli speaker. I speaker, la porta di ricarica, Tai-C e il jack per le cuffie. Perfettamente accessibile come vedete anche il tastone del volume e il microfono. E qui il reparto per la fotocamera. Secondo me protegge molto bene. E poi potete mettere il tablet in questa posizione. E in più ho preso insieme la tastiera e il mouse. Vi arrivano con i loro relativi cavi di alimentazione. E in più in omaggio vi danno anche questo pennino, diciamo cheap. Non è quello sul Mi Store, è un po' più piccolo. Però fa la sua funzione. E come vedete tastiera e mouse sono connessi. Perciò il tablet potete utilizzarlo come un portatile. E adesso proviamo il pennino. Direi che funziona e greggiamente. Adesso proviamo la tastiera. Diciamo che funziona. Sul sito dove l'ho acquistato io, attraverso l'app di Aliexpress, trovate parecchie colorazioni. Come vedete un blu, un nero, un verde scuro, un azzurro. Cover sempre abbinate a tastiera. Poi se volete aggiungere il mouse, come ho fatto io, c'è anche l'opzione di aggiungere il mouse. In più, come ho detto prima, vi regalano il pennino. In questo momento solo la cover e la tastiera li trovate a 23 euro e 71 centesimi. Se invece li prendete con il mouse, 29.04. Io li ho pagati un po' meno. Si vede che adesso sono metalli. Ragazzi, io sotto in descrizione vi lascio il link di acquisto per trovare queste cover. Vi saluto e al prossimo video. Bye bye. Ciao. 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 Grazie a tutti.